Ciao, siamo allo studio Dina & Solomon con Manuel Emyrit. Ciao, parlateci un po' delle attività del vostro studio e della collaborazione con BilbolBull. Lo studio si occupa di comunicazione di identità visiva e grafica. Lavoriamo fuori Bologna con enti culturali, aziende e chiunque abbia la necessità di una consulenza sull'identità visiva. Due o tre anni fa ormai abbiamo ideato questo progetto che si chiama Grifo, la grande festa delle lettere, che è un grande contenitore per celebrare un personaggio che ha inventato carattere corsivo nel Cinquecento e contenitore contemporaneamente però festeggiare anche le lettere, perché nessuno, se tu vai fuori in strada e chiedi a qualcuno, sai come mai le lettere si chiamano? Aramon piuttosto sono fatte così, però le usiamo tutti i giorni, quindi ci sembrava interessante usare Grifo per arrivare a questo progetto, che arriverà, sculterà l'anno prossimo ed è stato punteggiato da tanti eventi, workshop, mostre, laboratori con bambini, edizioni e quant'altro. Oggi siamo qua perché con Bebolbull presentiamo uno dei progetti di Grifo, che è un progetto prodotto da Grifo, che è curato da Giulia Garbin e Stefano Ribba e stampato da Unione Impressori. Tipi di Bologna è un libro in terratura limitata, tutto creato a mano, dalle illustrazioni di Giulia Garbin in linocut, alla stampa della parte scritta, che sono lettere di linotype, fuse in linotype e poi stampate a Torchio, fino alla stampa di tutto il libro da Anonima Impressori, tutto fatto a mano. è un prodotto che Grifo promuove, basato su comunque progetto artistico di Giulia Garbin, che è iniziato anni fa, c'è anche l'edizione precedente che era Tipi di Torino, sempre fatto da Giulia Garbin, Stefano Ribba e Print About Me. Tipi di Bologna come Tipi di Torino racconta come in pigliole, è uno strumento, è un libro divulgativo per tutti, che nonostante sia fatto comunque con una ricerca scientifica di controllo delle storie, perché racconta le storie dei tipografi dal Cinquecento, da Grifo, dal Cinquecento ad oggi. Quindi attraverso i secoli ci sono queste piccole pillole, ogni personaggio ha la sua piccola bio e l'illustrazione di Giulia. Quindi viene raccontati 500 anni di storia delle lettere bolognesi in questo libro. La presentazione del libro Tipi di Bologna e la mostra iniziano stasera, preso studio di Nancy Solomon, strada maggiore 51 e dalle ore 6, e durerà durante i giorni di Bilbo e Bull, a parte domenica, e continuerà fino il 30 di novembre. Grazie per la visione!